Salve a tutti, io sono Marianna e sono una siciliana trapiantata a Milano. Fin da piccola sono sempre stata una ragazza molto dinamica, proattiva, con una forte voglia di aiutare il prossimo, ma anche una forte passione per la scienza. Questo mi ha portato a conseguire la laurea in Scienze Biologiche, una triennale a Messina. Subito dopo volevo fare molta più vita vera di laboratorio, molta più pratica. Mi sono orientata verso corsi di studio specialistica a Torino, dove ho conseguito poi la laurea specialistica in Biotecnologie Molecolari. Durante questa fase ho avuto l'opportunità di conseguire un tirocinio di due anni presso il Laboratorio di Immunologia dei Tumore, che si trova in concomitanza con l'ospedale delle Molinezze di Torino. Questo mi ha permesso di lavorare direttamente a contatto con l'ospedale e con i campioni dei pazienti. In particolare, grazie alla collaborazione che c'era fra il mio laboratorio e il reparto di urologia, noi lavoriamo su fattori prognostici per quanto riguarda il cancro prostatico. Dopo questa esperienza mi sono nuovamente spostata a Milano, perché sono riuscita ad ottenere una borsa di studio presso il Laboratorio di Modelli Preclinici di Tumore, qui a San Raffaele di Milano. Lì sono stata circa un anno, finché non ho partecipato a un nuovo bando e ho vinto la possibilità di entrare in dottorato nella Scuola Europea di Molecular Medicine, qui in collaborazione con l'Università di Milano. E questo a sua volta mi ha permesso di lavorare fino adesso, quindi per più di quattro anni ormai, presso l'Istituto Europeo di Oncologia, lo IEO. Il dottorato, come mi piace dire, non è l'ennesimo titolo, è veramente un viaggio, è una forma mentis, è qualcosa che ti cambia anche nell'approccio al lavoro, nella gestione del lavoro, nel rapporto anche con gli altri, e soprattutto quello che per me è importantissimo nel rispetto del lavoro altrui, perché questo fa sì veramente che si possa creare un bel team e essere il più profigui possibile. Il dottorato mi ha sicuramente insegnato anche a gestire più progetti contemporaneamente, a ottimizzare quindi il tempo a mia disposizione, a capire come prioritizzare le cose, e mi ha insegnato anche quella che è la divulgazione scientifica, quindi in qualche modo il fatto di aver avuto la possibilità di pubblicare su riviste scientifiche, peer reviewer, o anche solo partecipare a delle conferenze, sia in modalità online che in presenza, grazie al superamento della situazione pandemica, mi ha aiutato sicuramente molto, anche il fatto, ad esempio, di essere qualche volta quella che viene definita Invited Speaker a queste conferenze, oppure di aver vinto un premio per la migliore presentazione orale, diciamo che sono tutte cose che mi hanno reso molto felice e hanno migliorato anche, in virgolette, la mia evidentemente esposizione. Ma durante il dottorato impari anche l'importanza delle collaborazioni, l'importanza di avere una mente aperta. Ecco, nonostante io sia felice di tutto ciò che ho fatto fino adesso, sono comunque, come dicevo, una ragazza molto dinamica, ho notato da un po' di tempo che la ricerca accademica mi sta un po' stretta. La mia idea era quella di provare a rivendermi, a spostarmi un attimino nell'ambito farmaceutico, comunque industriale. Guardandomi intorno, come prima cosa, sinceramente avevo solo una gran confusione per quanto riguarda le varie figure che ruotano attorno al mondo della ricerca aziendale. Più da qui l'idea di iscrivermi a questo master, il master di Pharma Medical Affair di Alma Laboris, che io seguo in formula online e nel weekend. Formula che per quanto mi riguarda è molto vantaggiosa, perché durante la settimana riesco a conciliare con il mio lavoro attualmente come ricercatrice post-dottorato, ancora all'OIEO. Innanzitutto sono molto contenta della mia scelta per diverse ragioni. Primo fra tutti perché ha rispettato le mie attese. Diciamo che la formazione non è ancora terminata, ma per quel che ho potuto eseguire fino adesso si tratta sempre di veri professionisti, molto preparati, ma nonostante ciò sempre molto gentili e disponibili. Comunque ci fanno chiarezza, nel senso ti danno delle nozioni che oggettivamente all'università non impari. Sono anche molto felice per quanto riguarda la parte amministrativa. Ci sono diversi responsabili e anche ragazzi, credo, che comunque ci seguono. Io ad esempio ho un tutor dedicato per quanto riguarda la parte del job placement, che mi segue, mi sostiene durante anche questa fase. e ultimo, ma non per importanza, la classe che hanno costituito. Le classi solitamente sono non più di 20 persone e così riescono in qualche modo a seguirci meglio. Ma è una classe sì eterogenea, ma che mi arricchisce secondo me, perché comunque ci sono dei ragazzi che hanno un background simile al mio, ma anche molto differente. E così da un lato riesco a costruire network, e questo mi serve e mi piace, però dall'altro mi arricchisce perché ognuno di loro ho ovviamente delle esperienze diverse dalle mie che possono sempre servire. Per quanto riguarda la parte lavorativa, certo, ho molte aspettative da questo master, ma sono sicura che così come non mi addeludo la parte, tra virgolette, didattica, mi possa aiutare nell'immettermi in queste nuove sfide lavorative. E come dico sempre, non si può sempre sapere tutto, ma l'importante è avere sempre voglia di imparare, mettere passione in quello che si fa e man mano magari i risultati arrivano. Spero che questa mia testimonianza vi sia utile e a presto, ciao!